L'11 ottobre alle ore 17 nella sala consigliare del Palazzo Municipale si discuterà di debito ato. La richiesta di un consiglio era stata avanzata dal sindaco Roberto Gambino e dall'assessora Luciana Camizzi, assessore al bilancio, per affrontare la tematica e dare eventuali chiarimenti sul debito ato per l'appunto. Dopo la conferenza infatti dei capigruppo è stato convocato un consiglio comunale monotematico in adunanza aperta. La mancanza del numero legale comporterà la sospensione della seduta per un'ora e una volta ripresi i lavori, se dovesse mancare ancora, la seduta verrà rinviata al giorno successivo alla stessa ora. Anche i cittadini potranno prendere la parola dunque durante il consiglio monotematico in adunanza aperta, inviando una mail all'inghirizzo ufficio.presidenza.chiocciolacomune.caltanissetta.it entro questo sabato 8 ottobre alle ore 14.